John Borno, John Borno, John Borno e benvenuti in questo nuovo video. Allora mi vedete cotto perché sono tornato a casa, mi sono visto, vedete è ancora buio, è mattino ma è ancora buio, mi sono guardato, cioè ho visto gli alezzi della Roma e poi mi sono rivisto tutta, tutta, tutta la partita della Juventus per, tra l'altro chi cazzo è a quest'ora? I gruppi, i gruppi, i gruppi, io ancora chi gruppi sto, vabbè, stavo dicendo, cosa stavo dicendo? Stavo dicendo che io mi sono guardato, mi sono guardato tutta la Juventus, ho faticato, ho avuto sonno, tra l'altro vi dico il programma del giorno alle 11.30 esce il video sulla Fiorentina, sul mio altro canale Simone Sickwolf e poi insomma intorno alle 13, 14.30 forse esce la live reaction allo stadio di Roma Leverkusen perché merita, perché merita, e poi insomma durante la giornata vediamo un attimo di quello di cui dobbiamo parlare, perché insomma qualche spunto di riflessione si volete uscire fuori, se no ci vediamo ovviamente domani. Però mi sono rivisto tutta la Juventus perché credo che a un certo punto, insomma siamo in semifinale di Europa League, tra l'altro è una possibile avversaria di una possibile Roma, di una possibile perché ora parleremo anche un pochino della Roma ma insomma della Roma voglio fare le pagelle, della Juventus farò le pagelle perché l'ho rivista tutta quindi mi sento in dovere di poter fare le pagelle e comunque io a questo punto ovviamente giù la maschera, nel senso non che io ce l'abbiamo mai avuta ma adesso parliamo con grande chiarezza. Io mi auguro che se dovessi andare in finale io voglio affrontare la Juventus perché mi piacerebbe, perché mi piacerebbe fare Roma-Juve in finale. A parte che devo ancora guadagnarmela, al momento le favorite per la finale sono Roma e Siviglia, secondo me viste le andate ma sarebbe fattibilissimo vedere una finale Juve-Leverkusen, cioè non mi stupirei, quindi personalmente voglio vedere come andrà. Però tra la Juventus e il Siviglia io voglio la Juventus per due motivi, il primo motivo è perché è italiana, quindi tra un'italiana e una spagnola voglio un'italiana, il secondo motivo è perché conosco la Juve, la Juve conosce me e me la voglio giocare, il Siviglia, io lo dico da quando ho fatto l'Europa League, lo dico da, eh ma il Siviglia sì che quest'anno tra un po' retrocede, sì, tra un po' retrocede, poi però passa il girone, poi però va a fare, no forse è retrocesso, non ricordo, poi però va a fare, c'è retrocesso in Europa e in Champions League, poi però va a fare gli ottavi, passa, poi i quarti, passa, elimina se non sbaglio il Manchester United successivamente ai quarti di finale e adesso insomma ieri con la Juventus ragazzi per poco non faceva il colpaccio vincendo a Torino e allora io che devo pensare? E allora io che devo pensare? Però, però c'è qualcosa che secondo me va analizzato, ora io non so se al VAR ieri ci fosse Ceferin, perché è probabile, è probabile che al VAR ci fosse Ceferin, cioè visto come è andato l'andazzo, però io non riesco a capire, non riesco a comprendere come si faccia a non concedere quel calcio di rigore alla Juventus, cioè per me ci sono delle cose che poi vanno oggettivamente considerate, no? Allora, chiaramente la Juventus non ha bisogno di doversi attaccare all'arbitraggio, no? È un po' quello che dicevo, per le semifinali, Siviglia e Leverkusen sono due avversarie toste, però se ne becchi in Champions esulti, no? Se l'anno prossimo la Juve beccasse il Siviglia in Champions come testa di serie esulterebbe, se la Roma andasse in Champions e nel girone beccasse Leverkusen, certo come quarta non sarebbe semplice, ma se la beccasse come terza sarebbe fattibile, sarebbe possibile passare il turno, anzi sarebbe contenta, quindi ovviamente poi si fa un'analisi anche su questo, però quello ragazzi è un rigore sacrosanto, cioè quello è un calcio di rigore sacrosanto, cioè lì prende solo gambe, gamba. Io mi domando come si faccia a non concedere un calcio di rigore di quel tipo, ma perché per me è impensabile, cioè tu lì per me o sei in mala fede, allora lo dici, sono in mala fede, alzi le mani e va bene, oppure c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non quadra, e io più mi giro, più mi rigiro, poi magari hanno detto qualcosa nel post partita, non lo so, io ho rivisto la partita per intero e questo vi dico, ma per me quel calcio di rigore è sacrosanto, ma senza alcun tipo di dibattito, senza alcun tipo di possibilità di replica, non c'è niente che si possa replicare, la lavatrice sta volando, ho sentito un botto, ho detto mo mi stanno bussando per l'orario da sotto, invece no, davanti ad un calcio di rigore di questo tipo, quello ragazzi è un furto, cioè quello per me, poi qualcuno magari mi spiegherà, a me sembra una grande ladrata, non riesco a comprenderlo, detto questo, non è opportuno, non è corretto racchiudere la partita della Juventus in quel rigore non dato, perché la Juventus ha tanti problemi in questo momento, io pensavo che la Juventus, pensavo che il Sevilla fosse favorito, però quantomeno mi aspettavo un atteggiamento positivo da parte della Juventus, è partita all'inizio a bomba, facendo quello strappo fisico, che io ho detto mamma mia la Juventus oggi gliene fa 47, è durata 20 secondi, il Sevilla ha cominciato ad attaccare nel primo tempo, gli ha fatto non una capoccia, un culo grosso così, diciamolo, un culo grosso così, io non so quanti tiri abbia fatti in porta la Juventus nel primo tempo, ma io un paio di appunti li ho presi qua, me ne ricordo zero, io me ne ricordo zero, io mi ricordo 12 tiri circa, ma se ho segnato 12 qualcuno me lo sarà perso, del Sevilla nel primo tempo, non so quanti li abbia fatti la Juventus, ma sono certo che ne ha fatti zero in porta nel primo tempo, poi nel secondo, insomma, la Juventus esce fuori, regola la partita, tiene il pallino del gioco, cerca magari, non tira praticamente mai, se non alla fine, cerca magari quel varco, mette gente, come si dice, mette densità in mezzo al campo, cercando di bloccare qualunque tipo di offensiva del Sevilla, il Sevilla poi gli va bene il gol del vantaggio, quindi anche il Sevilla non è che ha bisogno di andare ad attaccare, vincere una zero a Torino, ma anche fare una uno, penso che fosse tanta roba, penso che l'allenatore del Sevilla avrebbe firmato per andare a giocare al, 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 come si chiama il Sevilla? Vabbè, non mi ricordo, Quann, qualcosa, Team Quann, Team Quann, non mi ricordo, rega, è tardi pure per me, è tardi, sole, 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 sei pure per me, vabbè, comunque, a parte, a parte le cose, e nel secondo tempo, nel secondo tempo la Juventus ci fa vedere, ci fa vedere, insomma, un po' più di roba, però, però è male, però è male, però la Juventus in questo momento è male, sì, ripeto, c'è un calcio di rigore che, però mi aspetta qualcosa di più, e poi dovete ringraziare Gatti, perché la presenza di un calciatore come Gatti, che ci mette quella grinta, quella cazzimma, quella voglia in più, Gatti in questo momento è un calciatore che per la Juventus è indispensabile, qualcuno dirà, e chi se l'aspettava? Io, cioè, nel senso, io ero certo che Gatti, se avessi avuto lo spazio giusto, avrebbe poi reso, cioè, rega, si vedeva, si vedeva, io lo dicevo, scusate ragazzi, ma Bonucci, quando è arrivata la Juventus, ma chi era? Gli avete dato un'opportunità, e Bonucci ha iniziato a rodare, ha iniziato a far bene, si è ritagliato il suo spazio, l'unica nota positiva della Juventus, forse l'unica nota positiva in questa partita, è la gara di Lingy Junior, che dimostra, appunto, due cose positive, tre, se vogliamo dire, due e mezzo, tre, se vogliamo dire, appunto, citare la nota positiva, il fatto della fine di Piatrò del Parigi, ma per me, insomma, per come si era messa, sì, ma di base non era positiva in partenza, il Lingy Junior, che entra in partita, noi faremo le pagelle, e cambia la partita, e poi, sicuramente Pogba, che dà il pallone, per il pareggio di Gatti, e finalmente, si rivede Pogba, che, insomma, penso che la Juventus, fosse più che mancato, io, vi ripeto, oggi per me, la favorita a passare il turno, è il Siviglia, però, c'è una gara da giocare, un ritorno, che sarà come una finale, non ci stanno più i gol, che valgono tutti fuori casa, e quindi, l'1-1 del Siviglia, a Torino, vale come un 1-1 qualunque, però è vero che adesso, dovrà andare in Spagna, e non sarà semplice, facciamo le pagelle, non sarò carino, con la Juventus, tranne alcuni, che se non mi si meritano, le mie carinerie, poi passeremo alla Roma, faremo giusto le pagelle della Roma, Vojek Czesny, gli do 6 e mezzo, allora, sul gol di Enesiri, penso che non si possa dire veramente nulla, nel primo tempo, ha fatto due miracoli nitidi, io potrei dare anche 7, do 6, ma do 7, dai do 7, voglio migliore in campo Czesny, 7, se lo merita, io credo che la Juventus, sarebbe già stata eliminata, senza il portiere polacco, poi dietro, Danilo 6 più, cioè, la sua buona partita, la fa, credo che a livello dei titolari, sia stato probabilmente, senza proprio, sia stato il migliore punto, gli altri due hanno fatto ridere, e soprattutto, deve, compensare con, con le cappelle che fanno i suoi, i suoi due compagni, da quando entra Gatti, lui gioca con leadership, e con tranquillità, Bonucci 4 e mezzo, io voglio capire una cosa, ora non voglio essere cattivo, no? Allora, mi dispiace, mi dispiace, però la mia domanda è, ma Bonucci, adesso forse è arrivato un momento, in cui non deve più giocare, perché? Perché arriva a una certa età, in cui i riflessi, ti abbandonano, ti rompi tutte le volte, perché poi anche Gatti che è entrato, Gatti è entrato per un infortunio, perché poi Bonucci ha chiesto il cambio, e io capisco che tu vuoi giocare, ma ci sta, ma lo comprendo, ma è comprensibilissimo, però magari le partite che devi fare, sono quelle, con le squadre, della parte destra, della classifica, che comunque sono 20, 10, 70, 10 di ritorno, quindi insomma, secondo me le partite Bonucci, le potrebbe fare, giocare una semifinale, contro il Siviglia, che poi è la squadra di casa, è casa sua, l'Europa League, boh mi risulta abbastanza difficile da comprendere, al suo posto entra Gatti, do 7, esattamente come Scesni, per me migliore in campo, Scesni, però comunque Gatti ragazzi, cioè se la Juventus dovesse poi andare in finale, tutto il merito è di Gatti, ci crede fino all'ultimo, si getta in avanti, bene, 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 Alexandro 4, Alexandro 4, mamma mia ragazzi, mamma mia, non ci ha capito niente, non ci ha capito niente, sia all'esterno, che il terzino, l'hanno rincoglionito, l'hanno rincoglionito, ha perso praticamente ogni contrasto sul quale è andato, veramente male, è sembrato di vedere l'Alexandro, che eravamo abituati a vedere, quadrato gli do 5,5, allora, non mi è piaciuto, non mi è piaciuto, diciamo che forse nel secondo tempo ha fatto meglio che nel primo, lui prova a fare la doppia fase, diciamo che poi anche quadrato ha una certa età, avendo una certa età si comincia poi pian piano a, a faticare, no, a faticare un pochino, per quanto riguarda, magari la spinta e poi il recupero rapido, a quadrato delle volte si chiede anche più di quello che gli si potrebbe chiedere, dalla parte opposta Costi c'è 5, Costi ci ha fatto peggio di quadrato, forse proprio perché Costi ci magari mi aspetto qualcosina di più, gli do 5, gli do 5, e poi non mi ha fatto impazzire, perché poi da lui mi aspetto magari gli strappi in velocità, no, no, entra al suo posto il Linghi Junior nel secondo tempo, poi il secondo tempo è stato quello migliore della Juventus, quindi insomma, può per ricambio un po', e quindi do 6,5 ai Linghi Junior, la Juventus ha bisogno di giocatori così, che giocano con tranquillità, con spensieratezza, che spacca da tutto, che fanno quei doppi passi, si fa qualche pallone lo perde, potrebbe anche evitare, deve, però gli manca l'esperienza, ha 20 anni, dategli tempo, questo è un gran giocatore, centrocampisti, Miretti 5, io credo che Miretti debba giocare, però magari non in queste partite, non è cattiveria, però ci sono giocatori un po' più esperti di lui, che in queste partite possono dare più, più aiuto di lui, poi chiaramente dipende, vedi la Roma va a giocare Bove, Bove decide la partita, però vabbè, Rabiot 5,5, ci ha provato, ci ha messo il suo, più che altro, molto testa bassa, sbatteva contro le maglie avversarie, Locatelli 4,5, peggiore del centrocampo, assolutamente sì, non ha mai giocato un pallone in avanti, tutti da destra, a sinistra o dietro, questo è limitante, Chiesa entra a posto di Miretti nel secondo tempo, 5,5 anche lui, ogni tanto lo vedo correre, ma poi non combina praticamente nulla, 4,5 a Di Maria, mai visto, mai visto, e quando l'ho visto ho sbagliato un sacco di palloni, non è un caso, se poi esce, entra Pogba, 7, Pogba entra, 7, è un giocatore straordinario, lo sappiamo, è sempre stato rotto, quindi insomma si può dire poco, e poi fa l'assist, e quindi va bene così, Vlaovic 4, io non riesco a capire, è un partito in cui Vlaovic sembra essere di aver ritornato il giocatore che conoscevamo alla Fiorentina, è un partito in cui sembra veramente pessimo, Tettura si incazza quando esce, ma se non azzecca un pallone ragazzi, ma come si fa a tenerlo in campo, 5 e mezzo a Milik, almeno quando entra da presenza, sgomita un pochino, Allegri 5 e mezzo, i cambi li azzecca, Milik fa meglio di Vlaovic, Pogba fa meglio di Maria, Hilling fa meglio di Kostic, e via discorrendo, perché pure Chiesa quando entra, insomma, qualcosina fa, gatti, i cambi li azzecca di tutti, però il piano partita, secondo me l'ha sbagliato completamente, completamente, la Roma, la Roma, allora, Pagiale della Roma, sono contento ovviamente della Roma, non abbiamo fatto niente, continuo a rivedere che non abbiamo fatto niente, quindi regà, mi raccomando, mi raccomando, piedi per terra, c'è ancora una partita, sarà una guerra, in Germania sarà una guerra, quindi mi raccomando, testa concentrata e piedi per terra, però parliamo della gara d'andata, Rui Patrizio, 5, mi dispiace, ma gli do 5 a Rui Patrizio, non è cattivaria, ma gli do 5, il Leverkusen non è mai pericoloso, mai, 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 e lui per poco se la butta dentro da solo, gli scivola un pallone, io non so che cazzo dei guanti c'è, cambiate gli guanti perché non si sopporta più, per poco se la butta dentro da solo, prende anche in pieno il Poro i Bagnez, insomma, lo criticiamo sempre, ma quando c'è da die poro, di moglie poro, e no, e no, e non va bene, Mancini gli do 6,5, Mancini fa il solito bulletto, se incazza con tutti, quando c'è da sbraga a sbraga, quando c'è da andare a difendere i compagni, difendere i compagni, la sua partita la fa, difensivamente è praticamente perfetto, io ho poco da dire, i Bagnez gli do 7, non è un giocatore che mi dà tranquillità, però stava per segnare, e Radeki, insomma, ci mette la mano, difensivamente ha sempre fatto buone chiusure, poi, insomma, se lui Pagli ce lo prende in pieno, su quello si può dire poco o nulla, 7,5 a Cristante, ragazzi, ma che partita difensiva ha fatto Cristante, sembrava Smalling dietro, sembrava Smalling, tra l'altro sa per fare gol anche lui, su una parata di Radeki, voto 8, ha preso anche le madonne, e poi ha bloccato tutto, ha fatto quel miracolo su Frimpong, ragazzi, che io ancora mi sto cagando addosso, no, no, assolutamente 7,5 a Cristante, migliore in campo della Roma, no, secondo migliore in campo, c'è un migliore in campo al suo posto, ed è Bove, 8, 8, a centrocampo non sbaglia nulla, fa il compitino, è una partita da 6,5, ma trova il gol, che al momento, al momento ci porta avanti, quando è uscito abbiamo fatto tutti, perché se lo meritava, è un ragazzino, tifa Roma, e dimostra in tutti i modi di tenerci, quindi bravo Bove, vicino a lui gioca Matic, 7, ragazzi, Matic è perfetto, ogni tanto, insomma, ci prova pure, ma comunque al di là di questo, Bove, Matic è un giocatore perfetto per il centrocampo della Roma, l'esperienza che serve, difensivamente ottimale, viene in ripiego, benissimo, 7 a Matic, se l'icca 6,5, fa il suo, niente di eccezionale, sono contento, però, perché ce l'ha messa tutta, si è fatto male, ha continuato a giocare, insomma, ha dimostrato di tenerci, e questo mi rende orgoglioso, e dall'altra parte, gioca Spinazzola, 7, allora, devo dire una cosa, 6,5, allora, li supera, come al solito, ragazzi, Spinazzola, tanto potete andare a prendere tutti, 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 tutti i video che faccio, Spinazzola, dribbla tutti, arriva a fondo campo, fortissimo, poi la mette dentro così, e a balla la prendono loro, Spinazzola non sa crossa, cioè non è il cattiveria, Spinazzola non sa crossa, non fa un cross giusto, manco se chiedo 100.000 euro al giorno, ma tanto non ce l'ho, quindi non glieli posso dare, però mamma mia, Pellegrini 7, Pellegrini 7, fa una partita di cazzimma, di cattiveria su tutti i palloni, il termine adatto è generoso, è generoso Pellegrini, ed è un giocatore che è preziosissimo, quando si è fatto male mi sono cagato addosso, per fortuna che poi si è rialzato, mi sono veramente cagato addosso, 6,5 a Belotti, Belotti fa una partita anche lui di sacrificio, il problema è che appunto, insomma, le occasioni che si crea, sono poche, le palle pulite che gli arrivano sono ugualmente poche, sì qualche chance magari ce l'ha anche, ma poca roba, loro difendono molto bene, lo vediamo anche quando entra Di Bala, Di Bala non gli do voto, un quarto d'ora ma non gli do voto, perché non ha toccato un pallone, ogni tanto hanno sbagliato anche i difensori della Roma di innescarlo sui contropiedi, però l'hanno ingabbiato, quindi ad Abram gli do 6 meno meno, ha fatto una partita da 4,5, allora no, in realtà Abram ha lottato, ha lottato tanto, ha menato tutti, hanno dato su tutti i palloni, cattivo, cazzuto, veramente ha fatto una partita de core, de core Abram, però poi ragazzi sotto porta non segna manco con le mani, non segna manco con le mani, quando punta l'uomo non lo supera, fa le partite da recupero, fa le partite da sacrificio pure lui, però un po' di un gioco, due attaccanti da sacrificio, ma chi segna? Poi segna Bove, anche sul gol, insomma gli do 6 meno meno, perché? Per il sacrificio, perché sul gol il tiro lo fa lui, la palla se la crea lui, però pure là, mi può tirare un bocca al portiere, ma indirizza, poi magari la palla può andare fuori, poi meglio così, perché poi c'è un ribasso da segnato Bove, però, e Mourinho 7 e mezzo, che gli vuoi dire, che gli mancava Di Bala, l'ha messo a partita in corso, tra l'altro non ha dato il voto a Wijnaldum, perché se sta storia di Di Bala, ha toccato pochissimi i palloni, gli mancava Di Bala, l'ha messo a partita in corso, gli mancava Wijnaldum, l'ha messo a partita in corso, gli manca Chris Smalling, cioè veramente stiamo parlando di tre pilastri, di questa Roma, tre pilastri, eppure abbiamo vinto, c'è una gara difficilissima da giocare in Germania, però adesso potremmo fare il nostro gioco, loro cercheranno di andare in avanti, noi punteremo sulle di partenze, mi auguro che tra sette giorni avremo anche Di Bala a pieno regime, magari non giocherà domenica, va bene così, probabilmente avremo anche Wijnaldum a pieno regime, potrebbe tornare Smalling, non so se il Sharawi c'è modo di vederlo, ecco un altro infortunato che sarebbe stato preziosissimo, io vi dico la verità, per me con questi a pieno regime, oggi potevamo vincere 2-0, 3-0, non l'abbiamo fatto, però adesso insomma è tosta, si va in Germania, si stringa i denti, e vediamo quello che viene fuori, però a Mourinho solamente sette e mezzo, intanto ha vinto l'andala della semifinale, c'è però un ritorno da giocare, fatemi sapere la vostra, iscrivetevi al canale, io vi ringrazio, tantissimi piaci, buon c'è la linea come sempre, ciao a un prossimo video, ciao regà, e buona giornata, ma tra poi c'è la Fiorentina, un liggio mezzo, e lascia, ciao.